La vittoria su Roma ovviamente accelererà la fase di disfacimento di una maggioranza ormai evidentemente allo sbando, fra inchieste, dimissioni, perquisizioni, insulti vicendevoli fra ministro e ministro, telefonate improbabili. A mia memoria neanche nella fase finale del governo Berlusconi eravamo arrivati a questo punto di sbando. A maggior ragione la giornata di oggi, i minuti di oggi, mi servono per due cose. Primo per ringraziare e presentarvi la capolista della lista Lega a Roma che è Irene Pivetti che ringrazio per aver accertato a cui poi cederò la parola. La seconda è la mia totale disponibilità a fungere da mediatore perché il centrodestra vinca a Roma. Quindi mi sembra che in una fase anche di incomunicabilità all'interno della stessa Forza Italia e fra Berlusconi e Bertolaso io sono disponibile anche domani mattina, nell'ottica dell'unità del centrodestra e della possibilità di vincere sostenendo Giorgia Meloni a trovare la quadra che metta d'accordo tutti e completi la squadra che è già competitiva oggi potrebbe essere la più competitiva domani. Quindi sia per quanto riguarda Silvio Berlusconi sia per quanto riguarda Bertolaso la mia disponibilità a ragionare sul fatto che a Roma non si può vincere ma si deve vincere perché ci sono tutte le possibilità di farlo. In quest'ottica la candidatura come capolista di Irene Pivetti ci dice che noi ci mettiamo la faccia, ci crediamo, vogliamo entrare in Campidoglio non con qualche rappresentante ma da vincitori. Quindi ringrazio Irene che penso vi potrà spiegare il perché è questa scelta sicuramente non scontata e non facile. Grazie Matteo. Buongiorno. La scelta non è stata facile e probabilmente non scontata però mi sembra molto chiaro quello che abbiamo di fronte. Matteo mi ha proposto di essere capolista per la Lega nel quadro di un disegno serio di rilancio dell'area di centrodestra che vive un momento interessante, un momento di grave crisi da un certo punto di vista ma di grandissima opportunità di rilancio. In questo senso le amministrative di Roma sono una favolosa occasione io credo per i romani ma questa tornata amministrativa lo hai per tutti gli italiani che vanno al voto di ripensare il loro coinvolgimento nella politica e il fatto che questa proposta sia arrivata non in una stanza chiusa ma attraverso un passaggio immediatamente su strada perché è stato attraverso una consultazione popolare, le cosiddette gazebarie che non è che sia proprio un nome bellissimo ma insomma tanto per capirsi, secondo me dà la chiave giusta di lettura, un momento in cui i cittadini possono ripensare davvero di avere un ruolo attivo e non soltanto di protesta come è giusto quando c'è qualcosa per cui protestare ma soprattutto di ricostruzione del paese, di assunzione di responsabilità da parte di tutti. La Lega è un potentissimo motore di ricostruzione in questo momento raccoglie la fiducia di tanta gente anche a Roma e anche in parti non tradizionalmente di radicamento di questo movimento, di questo partito e in tanti strati sociali che sono normalmente considerate zone del non voto. Io sento molta voglia di partecipare io ma la sento condivisa da tanti cittadini di questa città. Io sono un romano medio, cioè sono un romano d'adozione, lo sanno tutti che sono nata a Milano e che per gran parte della mia vita sono vissuta e tra l'altro continuo ad amare con tutto il cuore la città nella quale sono nata e in questo sono un romano medio perché la gran parte dei romani vive questa esperienza e ha sperimentato che Roma può essere un luogo con cui scontrarsi ma anche dal quale essere accolti a un certo momento. Si trova il punto d'equilibrio tra la propria identità, si porta il contributo della propria identità in un grande calderone che in fondo ha sposto per tutti. Mi onora moltissimo poter essere in qualche modo un volto insomma a rappresentare questo territorio con questa voglia di riaffermare un protagonismo quotidiano, normale, delle persone fuori dai palazzi eccetera. Credo tutti quanti sappiamo che io vent'anni fa facevo politica, nel 2001 sono uscita dal Parlamento e sono quindi 15 anni esatti che vivo esclusivamente nella società civile, esclusivamente con frutto del mio lavoro, faccio l'imprenditore e quindi se una parte della mia vita ha rappresentato un'esperienza politica istituzionale di cui sono grata e onorata e che sicuramente mi ha anche plasmato per sempre però in un'altra parte importante della mia vita mi sono misurata con le regole del mercato al di fuori di ogni qualsiasi protezione pubblica e anche di questo vado molto orgogliosa. Quindi sono contenta di poter mettere a disposizione questa doppia esperienza in un momento storico particolarmente stimolante, difficile ma davvero molto stimolante, in una città anch'essa molto difficile ma talmente ricca di cose da dare, talmente ricca di esperienze da esprimere che sarebbe davvero un peccato non raccogliere questa sfida e quindi sono grata a Matteo che me ne ha offerto la possibilità, prima ha ascoltato i romani in realtà, perché la proposta non è venuta prima, la proposta è venuta dopo e poi c'è stato un ritorno importante, tra l'altro quella consultazione l'ho saputo il giovedì pomeriggio che si votava il sabato mattina, quindi ho avuto 36 ore per organizzarmi, quindi diciamo che il risultato è stato molto buono per i mezzi messi in campo, sin da subito è stata espressione anche di una pluralità di Rome, cioè di identità culturali presenti in Roma, anche comunità etniche diverse, culturali, strati sociali variegati, insomma quello che mi piace che questa città sia, quindi grazie di darmi questa opportunità, ovviamente appunto mi metto a disposizione e cercheremo insieme di trovare una formula, sono anche convinta e chiudo che anche tutte le questioni di cui parlava Matteo poco fa e che in realtà popolano ovviamente le prime pagine, le pagine politiche dei giornali, cioè questo estremo tasso di conflittualità e di perdita di punti di riferimento che la classe politica, che i vertici politici stanno dimostrando, nella destra ma non solo nella destra evidentemente, nella sinistra tanto quanto, hanno un'unica cura nel tornare al principio, nel tornare cioè alla radice della sovranità popolare, che è il consenso e il consenso significa persuasione, cioè essere stati convincenti e credibili per le persone che si vogliono rappresentare, si tratti di elezioni amministrative, di politiche nazionali e di qualsiasi altro livello di rappresentanza politica. Quindi sono contenta che ripartiamo dai marciapiedi e forse che non li lasciamo neanche senza imbarazzo per la politica più ben vestita, perché è solo dove si vive la vita quotidiana e dove ci si scontra con i problemi quotidiani che si possono trovare anche insieme e le risposte giuste, persino per i livelli strategici più elevati. La Lega è sempre stata un partito radicato in questo senso, è stata vissuta anche con un certo snobismo da una parte dell'establishment per tutta la sua esistenza, dalle origini ad oggi, per essere troppo scamiciata, siamo ben contenti e orgogliosi di esserlo, anzi, evviva. Mi onora tra l'altro tornare in un contesto che per me è stata un'altra parte importantissima della mia vita. Diceva una specie di reunion dei pu, ma insomma c'è anche questa dimensione, permettetemelo, affettiva che non è poco importante, ecco, anche perché se non la fai col cuore la politica, non puoi farla solo col cuore, ci vuole il cervello e anche un po' di mezzi pratici, però senza cuore non interessa a nessuno, perlomeno non a me. Chiudo prima di rispondere se c'è qualche domanda. Entro una decina di giorni inaugureremo la sede elettorale a Roma e vi presenteremo il simbolo che stiamo riscrivendo e rivedendo, che sarà un primo in Italia, che verrà sottoposto al giudizio dei cittadini romani a giugno, perché siamo convinti che dal voto di Roma e Milano possa arrivare il ben servito a Renzi e alla sinistra degli affari. E quindi ribadisco l'appello, se il centrodestra crede in un'Italia diversa da quella di Renzi, Roma e Milano devono vedere il centrodestra unito. Io ci credo, spero che ci credano tutti gli altri. Se ci sono domande rispondo più che volentieri. Sì, sono Secci di Renews24. Allora, Roma è stata, come dire, quasi una palestra di scontro nel centrodestra, in particolare con Forza Italia. Come pensate di ricompattare, di ricongiungere le varie anime del centrodestra? La prima domanda a lei. Poi a Irene Pivetti, dopo vent'anni torna a fare politica attiva, lei è stata la seconda donna a presiedere la Camera dei Deputati. A Roma si rischia un finale di campagna elettorale e poi anche, come dire, il ricorso all'ultimo confronto tra due donne, una rappresentante del centrodestra e una rappresentante del Movimento 5 Stelle. Cosa pensa di questa possibilità e potenzialità femminile? Riposta numero uno. In politica conta il cuore, ma contano i numeri e tutti i numeri, dal primo all'ultimo, dicono che l'unica candidata che può vincere a Roma per il centrodestra si chiama Giorgia Meloni. Quindi se qualcuno corre per partecipare, lo dica. Se qualcuno corre per vincere, ha una sola possibilità di scelta senza avere né vincitori né vinti sul territorio. Ci mancherebbe altro. Noi abbiamo dimostrato di saper fare non uno, ma due passi indietro. Le elezioni in Liguria ce lo ricordano. Hanno interesse a vincere per cambiare. Speriamo che a tutti interessi vincere per cambiare e non tirare a campare. Per quanto riguarda l'ipotesi di una sfida tra due donne, ottimo, naturalmente, va bene. Poi io non ho mai considerato l'essere donna, così come non lo è l'essere l'uomo, di per sé definizione del meglio e del peggio. Non credo che le donne siano in questo senso una categoria, perché contano i contenuti evidentemente e la personalità. Però è viva, è un bel segno. Siccome la politica è fatta anche di comunicazione, la comunicazione è fatta di simboli, è un eccellente simbolo. Vuol dire che ci avviciniamo a una normalità che è il punto nel quale il fatto che i candidati siano maschi o femmine non è più così importante. Ci sono ancora ovviamente delle falle da colmare. L'Italia non ha mai esibito un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio donna, cioè siamo una vecchissima storia di quel genere lì. Pian piano ci si arriva, rispetto ai tempi che lei ricordava, tanti passi in avanti sono stati fatti. Io ero la seconda donna Presidente del Parlamento. Dopo la Boldrini abbiamo espugnato il podio, finita lì, non è più una notizia. La quarta non sarà più una notizia. All'epoca c'era la prima donna... La terza ce la saremmo potuta evitare. Parlavamo, infatti, e infatti si dimostra che le donne non sono di per sé una categoria, ma ragionando dal punto di vista della ripartizione dei sessi, all'epoca c'era la prima donna, direttore di Un Quotidiano, che era Pia Luisa Bianco, che era direttrice dell'Indipendente. Poi sono venuti altre donne a dirigere altri quotidiani. Non è più quasi più una notizia, resta una rarità. Abbiamo dei luoghi, non so, nelle banche ci sono forti carenti. Insomma, voglio dire, lo sappiamo, non è che devo dirmi che è niente di nuovo, però è viva. Se ci stanno due donne, peraltro non vedo alternative che questa. E ovviamente sappiamo anche come andrà a finire, ma la Meloni sta lì per andare a vincere. Sono la mediora mattina della stampa. Una domanda al segretario e una alla signora Pivette. Al segretario, lei dice che, intanto volevo chiedere se ha già visto o sentito Berlusconi, ma le argomentazioni politiche per convincere Berlusconi a unire il centro-destra che non siano soltanto i numeri e che non sia soltanto dire facciamo massa numerica per vincere. Politicamente qual è il ragionamento che lei fa per convincere Berlusconi a questa unione che lui soffre in quanto non più leader vero di questo centro-destra? La domanda è la signora Pivetti. Lei ha il sostegno di una parte della comunità cinese a Roma? Il ragionamento politico è che Renzi non è mai stato così debole da quando è iniziato a essere presidente del Consiglio. Ormai è in balia degli eventi. E quindi se, come dice e come credo pensi Berlusconi, in economia Renzi è un danno per l'Italia, l'occasione di un cambio di rotta o di un cambio diverso, come dice il buon Matteo, è quella del 5 giugno. Ci sono diversi passaggi, c'è il referendum di domenica prossima su cui ci stiamo impegnando per portare più gente possibile a votare, votare sì, e le amministrative ovviamente sono un discrimine. Se il centro-destra vuole rinascere, apri e chiudo la parentesi, noi ci stiamo già organizzando per la prima settimana del dopo elezioni, quindi entro fine giugno una grande iniziativa che raduni imprenditori, giornalisti, professionisti per costruire l'alternativa a Renzi, che non sia una minestra riscaldata ma sia un nuovo progetto. Quindi chiunque creda a questo nuovo progetto lo può sperimentare a Roma. A Milano abbiamo scelto facendo tutti un passetto indietro di farlo, penso che al di là degli errori di valutazione di chiunque su Roma, adesso sia il tempo delle scelte. Quindi siccome la Milano può vincere, spero che tutti abbiano la stessa voglia e lo stesso coraggio. Allora sulla comunità cinese, dire la verità, io sono da molti anni, come qualcuno sa, lavoro con la Cina e lavoro anche con altri mercati remoti, perché questa è la mia attività professionale. Nel corso di questi anni si sono radicati molti rapporti di amicizia anche personale, a tanti livelli, ovviamente in Cina e altrettanto ovviamente in Italia, nelle varie comunità cinesi che ci sono in Italia. E quindi ovviamente mi auguro che molti dei miei amici vogliono votarmi, e spingere, ovviamente quelli che hanno la cittadinanza, e spingere gli altri a farlo. Però il tema non riguarda soltanto la comunità cinese. In questo caso, siccome stiamo parlando di Roma, parliamo di una città che ha anche tante anime culturali, non soltanto appunto i cinesi. E credo che sia giusto che queste anime trovino modo di esprimersi. È chiaro che proprio perché condividiamo la stessa, diciamo, casa comune nella quale stiamo, ci sono delle regole estremamente chiare che devono essere rispettate da tutti. E questo noi lo vogliamo, così come lo vogliono tutte le persone per bene, indipendentemente dall'origine etnica, culturale o familiare. Perché credo che nessuno di noi voglia fare del razzismo qua dentro. Quindi io guardo ai cittadini che vogliono rispettare le regole, vogliono utilmente concorrere a costruire questo bene comune che noi tutti siamo gli uni per gli altri. Se in questo si ritrova un nuovo protagonismo della comunità cinese e magari anche di altre comunità che sono importanti in questo territorio, in maniera costruttiva, perché oltre ad avere, a dare un contributo economico, vogliono anche assumersi delle responsabilità, io ne sono soltanto contenta. Devo dire che i discorsi che mi sono sentita fare dagli amici cinesi e anche di altri gruppi, ma specialmente dai cinesi che così si interessavano allora su questa stagione politica che Roma sta attraversando e altre città italiane, le richieste sono esattamente le stesse di cittadini non cinesi, vogliamo tutti la sicurezza, vogliamo tutti più decoro urbano, vogliamo tutti un quadro di regole certe perché si possa crescere socialmente ed economicamente bene tutti quanti. Ci sono alcune questioni specifiche relative all'integrazione culturale e linguistica che chiaramente sono delle problematiche che andranno affrontate, quindi io sono molto contenta se una parte della comunità cinese o di altre comunità prenderà sul serio questa proposta che nasce per difendere le identità in un quadro di regole certe, voglio anche soltanto ricordare che dalle sue origini la Lega è un movimento identitario, ai tempi dei tempi nei quali io avevo un ruolo in questo movimento era proprio questo il cardine, il motore uno, poi adesso sono passati 25 anni e si costruisce un'identità politica anche di tanti altri passaggi, ma alla radice di tutto c'era la rivendicazione di un'identità culturale che non trovava espressione nel quadro politico, l'identità nordista all'epoca, quindi evviva tutte le identità. La scommessa è evitare il caos di Prato, per intenderci, evitare di Prato l'anarchia, i capannoni abusivi, i negozi abusivi, gli ospedali abusivi, le scuole abusive, gli aborti abusivi, ecco, la scommessa è di coinvolgere attivamente e positivamente, ma questo vale per Milano come vale per Trieste, comunità che altrimenti vivono in altra maniera. Non so se ritieni che è in caso di dirlo, ma insomma ci sono delle iniziative molto concrete, molto prima di questa operazione politica, per indicare diciamo una sensibilità crescente di queste comunità, a me è stato chiesto come amica loro di aiutarli a creare un rapporto normale con le istituzioni locali, il caso di Padova dove 30.000 cinesi sono arrivati in 5 anni creando ovviamente un trauma territoriale, ma il centro del grosso dove la maggior parte di loro vive e lavora è un luogo dove si cerca di fare business in modo serio e corretto, certo si cerca, non mancano le cose scorrette e bisogna aiutare quelli per bene a mettere all'angolo gli altri. Mi è stato chiesto di aiutarli a realizzare un presidio sanitario alla luce del sole, una cosa seria, dove ci possa essere un interscambio culturale costruttivo secondo le regole della sanità, in questo caso laziale, visto che la sanità è regionale. Cioè ci sono delle istanze molto serie, per tacere delle loro istituzioni, l'ambasciata, il consolato, che chiedono un intervento in questo senso. Quindi io sono ben contenta. Vuol dire che si va verso una normalizzazione di una situazione che ha solo prospettive positive, se la si prende in questo modo. Io sono Simone Canettieri del Messaggero. Una domanda a Salvini, anzi due. È possibile che, secondo lei, alla fine Berlusconi converga su Marchini, come si è detto nei giorni scorsi, che comunque c'era una parte di Forza Italia divisa su questo? E la seconda domanda, viceversa, auspica qualora il quadro di centrodestra si ricomponesse, quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che anche Marchini converga sulla Meloni? È un'operazione possibile oppure no, secondo lei? Qua ci sono in ballo le elezioni comunali a Roma, a Milano, a Torino, a Bologna, in tante altre città, ma soprattutto c'è l'alternativa di governo a Renzi. Questo è un governo che, io ribadisco, non tira a fine anno. E quindi le beghe locali vanno ricondotte a una scelta politica nazionale. Non parlo a nome di altri, non parlo a nome di Berlusconi, di Bertolaso, di Manchini, ci mancherebbe altro. Dico solo che è sotto gli occhi di tutti, dei romani in primis, che se il centrodestra vuole vincere a Roma, la candidatura possibile è una. E si chiama Giorgia Meloni, senza voler imporre niente a nessuno. Escludo che Forza Italia passi da un candidato perdente all'altro, almeno mettendomi nei loro panni mi sembrerebbe scelta bizzarra. E quindi la prospettiva è lì. Pronti ad accogliere tutti e a ragionare con tutti, però se si vuole vincere la possibilità è una. Non perché lo dice Salvini, ma perché lo dicono i romani o dicono i numeri. Qualunque altra prospettiva aiuta Renzi. Qualunque altra candidatura aiuta Renzi. Che si fa del male da solo, è per carità di Dio. Beh insomma, io ho sentito qualcuno già ipotizzare un possibile sostegno a Giacchetti, qualora Giacchetti arrivasse al ballottaggio. Chiunque voglia far parte della squadra, evidentemente ne fa parte per vincere, non per ipotizzare un inciucio con Renzi a secondo turno. Sono Carlo Solime nel tempo. Una domanda per lei, segretario, una per la Piretti. Per lei le chiedo, nella sua idea di coalizione, c'è un posto riservato in qualche modo a Guido Bertolaso, oppure diciamo il fatto che fra voi i rapporti umani si siano, diciamo, un po' deteriorati, lo taglia fuori. Insomma, la Piretti chiederei invece, lei negli scorsi mesi è stata data in avvicinamento all'universo marchiniano, nel senso che le croniche hanno riferito anche di un suo incontro con Beatrice Lorenzini, proprio nei giorni in cui la Lorenzini lanciava la lista civica per Marchini. Cosa è successo? E magari se lei può fare da tramite per riportare anche Marchini nell'alveo di questo accordo globale del centro-destra? La Lega funge da mediatrice per ricostruire il centro-destra, questa è la notizia del giorno. Io non dico no a nessuno, la scelta è della candidata sindaco ovviamente, la scelta è di Giorgia Meloni. E quindi Salvini di suo non dice no a nessuno, nel nome dell'unità della coalizione. Poi starà a Giorgia a decidere chi farà che cosa. Per quanto riguarda i rapporti con Marchini. Sì, è vero, la notizia è vera, infatti ho anche incontrato la Lorenzin, è vero che ho avuto parecchie occasioni di incontro con quest'area, proprio in una logica di cercare di capire le diverse, non voglio chiamarle anime del centro-destra perché non è che sono anime, su queste aree, questi contesti, queste aggregazioni protempore, temporaneamente divise, se c'erano le condizioni per un dialogo. Ed è vero anche che mi è stato proposto di essere capolista di quella lista civica. e ho seriamente ragionato, tra l'altro Matteo lo sapeva, loro lo sapevano, cioè io non ho, tra l'altro non sono neanche capace di fare le cose, trovo molto faticoso fare le cose sotto banco, non ce n'è motivo. Anche perché posso permettermi, potevo e posso permettermi, essendo non iscritta o membro di un partito, sono un imprenditore a cui viene fatta una proposta. Però devo dire che sono, che ho trovato non rassicurante esattamente quello che faceva riferimento Matteo poco fa, cioè che almeno una parte consistente degli elettori e anche dei membri di quella lista, eccetera, mettevano sin da subito in preventivo di andare a votare Giacchetti al secondo turno. E quando ho sentito questo ragionamento, ho detto scusate ma bisogna che ci capiamo, perché un conto è essere moderati nell'area di centrodestra, un conto è pensare di fare da cerniera cerchio bottista tra un lato e l'altro perché tanto come va poi mi posso piazzare. Io questo non sono disponibile a farlo, non sono stata fuori da vent'anni dalla politica per rientrare in una forma ambigua. E ancorché io ribadisco che ci sono dentro delle persone stimabili che considero degli amici e che apprezzo, eccetera, penso che sia un vero peccato sciupare tali risorse in una poca chiarezza di disegno politico. Quindi mi sento di invitarli caldamente a una riconsiderazione di questo eccesso di disponibilità. Io non credo che si debba essere moderati in questo modo. Essere moderati vuol dire avere chiare le idee di dove si vuole andare, che tipo d'Italia si vuole fare. Io credo di averla, cioè è un'Italia di centrodestra. Dopodiché si può dialogare con tutti, ma io non metterò mai in conto di andare a votare un esponente del PD. Proprio per niente, che stiamo a fare? Salve, buongiorno. Allora, io rappresento il giornale cinese Nouvelle Europe e il sito di Internet Olin News. Allora, ho due domande, uno per l'onorevole Salvini e l'altro per il presidente Pivetti. Praticamente, per Salvini, per quanto riguarda, perché c'è la comunità cinese, una vasta comunità cinese qui in Italia, e loro hanno, diciamo, una preoccupazione, perché la Lega è sempre stato contro i migrati in generale, ma anche della comunità cinese. Quindi loro non sanno se possono votare una persona proposta dalla Lega. Invece per la dottoressa Pivetti, per quanto riguarda se lei successivamente diventerà il sindaco, che cosa farà per questo problema e se si può, diciamo, come promuovere la collaborazione tra i due paesi? La risposta la danno le centinaia di iscritti stranieri che ci sono in questo momento alla Lega, dal Sud America all'Est asiatico, alla Russia, passando per diversi paesi africani. La Lega ce l'ha con la clandestinità e con chi non rispetta le regole. Quindi uno può essere nato a Milano, a Bolzano, a Lampedusa, a Bologna, a Pechino, in Perù, a Tripoli o in Finlandia, se è qua da persona per bene, per integrarsi, per contribuire allo sviluppo, rispettando la tradizione del paese che è ospitante, è il benvenuto. Quindi le parole di Salvini contano poco, contano invece le centinaia, anche di amministratori locali di origine straniera che la Lega esprime in questo momento. Il candidato sindaco è Giorgia Meloni, io sono indicata come capolista per la Lega, quindi una delle componenti del centro-destra, ma capisco che sono anche elementi che magari, diciamo, visti da distante, creino un po' di confusione. Comunque sia, io penso che la posta in gioco sia una migliore, davvero una migliore integrazione, facendo tesoro del patrimonio che ciascuno di noi può esprimere culturalmente, che vuol dire competenza, vuol dire tradizioni, vuol dire anche attitudini professionali, in un quadro di regole certe. Lo so, perché li conosco, ci sono moltissimi cinesi, come ci sono persone del Bangladesh o di altri paesi che vivono in questa città, che esprimono un desiderio di integrazione e rispettano le regole. E io credo che siamo i migliori alleati, perché la clandestinità e l'illegalità sono un tarlo, non soltanto per la comunità dei nati in Italia, ma per la comunità di tutti coloro che in Italia ci vivono dovunque essi siano nati e fanno del danno soprattutto a chi ha fatto più sacrifici per arrivare qua rispettandole queste regole. Ci sfrattano. Nel rispetto delle regole tocca a qualcun altro, ci sfrattano. Ok.